Si è svolto a collegare il primo incontro di Greenability Ambiente Senza Barriere, che segna l'avvio dell'attività del progetto promosso dal Consorzio BIM Vomano Tordino e cofinanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Abruzzo nell'ambito del Piano Sociale Regionale 2022-2024. Cinque comuni che nei prossimi mesi verranno interessati dal progetto, Canzano, Crogneleto, Cortino, Isola del Gran Sasso e Roseto degli Abruzzi. In questi verranno realizzate aree ricreative inclusive per un ambiente senza barriere, intese sia in termini materiali che culturali. È importante perché oltre a voler rimuovere le barriere architettoniche a livello materiale vogliamo anche rimuovere quelle barriere sociali e relazionali. Vogliamo fare una vita più agevole, persone in difficoltà, persone fragili e tutte quelle persone che in Abruzzo soffrono. Quindi nessuno deve rimanere indietro, questa è la nostra politica. Io sono molto sensibile a tante problematiche, tra l'altro partireanno tante misure ancora nell'ambito del sociale, oltre a quelle che già sono partite. Voglio ricordare il rimborso delle spese ai malati oncologici, in settimana partirà un bando solo autismo e poi la non-natosufficienza, la vita indipendente e il dopo di noi, ovvero tante iniziative per cercare anche di venire incontro a quelle esigenze alle persone in difficoltà dopo che vengono a mancare i propri cari. Alle aree ricreative si aggiungerà anche uno sportello di ascolto dedicato. Le attività che si svolgeranno da settembre a dicembre prevedono uno primo step in cui il Consorzio provvederà ad acquistare e fornire ai comuni che metteranno a disposizione un'area idonea già attrezzata a redi inclusivi, quali panchine, tavoli da picnic, cestini, porta rifiuti e baccheche informative. Per il momento coinvolgeremo cinque comuni, però vorremmo andare avanti, abbiamo avuto l'idea di partecipare, far partecipare questo tema della disabilità che è molto importante e che magari anche nei comuni più piccoli che hanno difficoltà ad avere degli approcci anche con le famiglie, abbiamo voluto dare questi cinque appuntamenti nell'arco di questi tre mesi fino a fine anno e daranno la possibilità anche ai non ragazzi di stare in compagnia e di assaporare quelle che sono la riscoperta anche del nostro territorio e delle nostre tradizioni.